Vice Presidente, i comuni virtuosi tentano di stare all'interno del patto di stabilità, i comuni non virtuosi autorizzano le spese fuori bilancio e adesso con un colpo di spugna si azzara tutto? Sì, come al solito noi siamo virtuosi, riusciamo a reggere una situazione che a talvolta è drammatica, i sindaci veramente vivono alla giornata e poi tutto un tratto esce la solita novità all'italiana che chi ha sforato non viene perseguito. Allora l'invito che io faccio ai nostri sindaci è quello di diventare un po' meno veneti, un po' più italiani e imparare che se si devono fare le strade si fanno, se si devono fare le scuole si fanno e poi tanto comunque ci sarà sempre un sistema per riuscire a non pagare come si è soliti fare in un'Italia che non ha ancora capito veramente quali sono i valori e le regole da presentare ai cittadini.